Nell'attesa che vengano ufficializzati i nomi dei concorrenti della prossima isola dei famosi, Tuglog ne ha anticipati quattro che, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbero quasi certamente far parte del cast. Infatti pare che tra circa un mese voleranno in Honduras l'attrice Demetra Hampton, il cantante Riccardo Fogli, il giornalista Paolo Brosio e l'ex Jeffina Marina La Rosa. La gatta morta Marina La Rosa nel cast dell'isola 2019. . Interrogativo manca esattamente un mese al debutto della prima puntata dell'isola dei famosi 2019 giovedì 24 gennaio. Infatti, è previsto il ritorno su canale 5 del reality condotto da Alessia Marcuzzi. A qualche giorno dall'annuncio ufficiale del cast scelto dagli autori come confermato dalla presentatrice a Piero Chiambrenti, Tuglog ha anticipato i nomi di quattro VIP che dovrebbero rientrare nella lista dei naufraghi. Stando a quanto riportato dal sito succitato, in Honduras dovrebbero sbarcare il cantante, Riccardo Fogli, l'attrice Demetra Hampton si tratterebbe di una novità assoluta, il giornalista Paolo Brosio e l'ex concorrente del primo grande fratello Marina La Rosa. . Quest'ultima, che recentemente è stata ospite fissa di My Dire Talk su Italia 1, è passata alla storia soprattutto per il nomignolo che le affibbiarono gli altri inquilini della casa, la gatta morta. . Gli altri personaggi che sono stati accostati al format sulla sopravvivenza sembrano non convincere molto l'età non giovanissima di questi ipotetici partecipanti e le loro carriere un po' in fase calante negli ultimi anni potrebbero creargli qualche difficoltà nell'entrare nel cuore del pubblico. . Isola dei famosi ancora nessuna ufficialità sul cast di Naufraghi 4 personaggi famosi che in queste ultime ore sono stati accostati all'Isola 2019 non sono gli unici emersi tra i papabili concorrenti del reality show di Canale 5. Poche ore fa, ad esempio, oggi ha rivelato che potrebbe volare in Honduras anche Dennis Fantina, video, il primo vincitore di Amici di Maria D. Filippi. . Inoltre, stando ad ulteriori rumores, nel cast del format dedicato alla sopravvivenza dovrebbero esserci almeno un paio di concorrenti provenienti da uomini e donne e in cima alla lista ci sarebbero Giorgio Manetti, Giordano Mazzocchi e Nicole Mazzocato. . Altri VIP che potrebbero mettersi alla prova sono Jeremias Rodriguez, Alvin, Marina Suma, Fariba Tearani e Cristina Davena. . Inoltre al momento non vi è alcuna certezza sull'identità dell'inviato, video, e dell'opinionista della nuova edizione dell'Isola i più accreditati. . Ad oggi, sembrano essere Kabir Bedi e Daniele Bossari per il ruolo di corrispondente, e Alda Deusanio e Alba Parietti per quello di commentatrice in studio.